Allora, oggi sperimentiamo come mangiare l'occhio. Fai vedere che c'è dentro? Questo è sangue, no, marmellata. No, marmellata. Poi fai vedere che cosa ti hanno portato dalla Romania. Sarà al gusto fragola, vediamo. Sì. Sì? Credo di sì. Può vedere delle fragole. Poi, che altro ti ha portato? Non ho dentro le caramelle. Non ho delle caramelle. Cioè, questa cosa è spettacolare. Guarda poi, le schito. E poi anche questo, che guardate. Aspetta, apriamolo. Facciamo questa challenge, eh, Gabriele? Si dice challenge? Vai, mettiamola insieme. Aspetta, qua forse siamo. Sì, solo che uno non ho le unghie. Tiralo. Vai, apriamolo. Questa scatola magica. Uh! Uh! Uh, di piccolo. Ah! Tu le fateva un magilocchio? Uh. Dai, aiutami a riuscire. Questa, mantento il telefono. No, vabbè. Oddio, c'hanno una faccia buonissima, sti biscotti. Cioccolato. Uh! Si mangia! È per finire. È per finire. Questa è mia, però. Questa è mia. Salitos. Salitos blu. Cos'è? Non lo so, ma credo che sia qualcosa di molto buono. E stasera si va a dormire prima! Oh! Buonanotte, amici!